Se sei un trader e te mai venuta la tentazione ludopatica di speculare quando vedi la volatilità esplodere e rilasci di news macroeconomiche, questo video è letteralmente per te. Ecco 5 modi di tradare le news dal peggiore al migliore utilizzato dal campione mondiale di trading, Jan Smogen. Prima cosa di sapere che il mercato sotto news può fare 4 cose. La prima cosa che può fare dopo la news è prendere e partire, quindi volatilità unidirezionale. Quando succede è spettacolare, non succede tanto spesso, ma quando succede si cavalcano i trend molto volentieri. Altra cosa che può fare è sbilanciare e poi partire. Questo succede molto più spesso, ma può anche essere che a volte faccia un doppio sbilanciamento direzionale, quindi che fa diverse finte prima che poi il mercato si decida su dove cazzo andare. Ci sono anche volte dove c'è semplicemente volatilità non direzionale, quindi il prezzo rimane lì a cazzeggiare, a far schiampare i diversi retei che fanno gambling sulle news, mentre che il mercato e gli operatori long term decidono se e come posizionarsi su questa news. Quindi come ci comportiamo? Il primo modo è il pre-news gamble. Questo è il prezzo, qui tu compri, magari ti metti anche lo stop loss, e qui o va su o va giù. Se va giù ti slitta lo stop loss e perdi di più di quello che avevi preventivato. Se hai culo che va long, non è detto che riesci a chiudere in tempo e il mercato può tranquillamente ritornare giù e beccarti comunque lo stop loss. Quindi il 50% di probabilità ce l'avresti teoricamente, però in realtà non è proprio così, è molto molto rischioso. Quindi non consigliato. Il secondo modo è il pre-news covereded gamble. Quindi sempre una scommessa dove tu prima che esca la news vendi e compri allo stesso momento. Questo si chiama anche fare hedging, quindi comprare e vendere allo stesso tempo. Ma anche se fai hedging, comunque lo spread già me l'hai lasciato al mercato, quindi hai già perso in partenza. Poi se va long, il sell ti va in perdita, il buy va in profitto, facciamo finta che chiudi con una perdita la vendita. E poi se sei fortunato o continui a salire, se no può anche essere che poi scende. E anche qui c'hai come quei tutti i problemi di slippage quando chiudi le posizioni. Quindi non hai cambiato un cazzo, hai solo aperto più posizioni. Quindi anche questo sconsigliato. Il terzo invece è il pre-news strangle. Che non è lo strangle delle opzioni, ma è semplicemente abbiamo il prezzo pre-news. E andiamo di o sell stop qua sotto, quindi un ordine di vendita che viene attivato solo se il prezzo poi rompe. Con l'aspettativa che con la volatilità continui ad andare. E in più ci mettiamo qua sopra un buy stop. Quindi se il prezzo dovesse fare così, con l'aspettativa che salga, noi entriamo a breakout. Già comincia ad essere un pelino più intelligente, ma bisogna stare molto attenti ai rischi. Perché c'è comunque il rischio che poi venga rimangiato tutto. Quindi magari ti prendi la volatilità, però non sai che dato uscirà. Può essere che sei un dato che fa semplicemente fare così al prezzo, ti prende tutti quegli ordini e ti vanno entrambi in perdita. Quindi avrebbe senso farlo solo una volta che magari sai il dato. Però con uno studio statistico della volatilità che c'è in media su una determinata news, su un determinato asset, puoi trovare delle strategie che hanno un edge. Quindi diciamo bene, ma non benissimo. Bisogna stare attenti. Il quarto invece è il technical post news trading. Quindi dopo la news. Quindi una volta che il prezzo è partito, quindi dopo la news, sulla base di qualche strategia tecnica, magari relativa alla volatilità, o comunque con delle conferme di tipo tecnico, che siano con l'analisi dei prezzi, dei volumi, o anche di qualche indicatore, o prendersi la continuation sul ritracciamento, o magari con delle conferme prendersi l'inversione. Quindi non la continuazione, ma che dopo la volatilità della news venga riassorbita e addirittura si continui ad andare su. In primis è già meglio perché aspettiamo che la volatilità sia bassa o minima e non subiamo troppo slippage. In più, se è tecnico, ci dovrebbe essere un minimo di testing, anche lì del vantaggio statistico. Quindi, se è fatto fatto bene, anche questo può essere un buon modo. Quindi anche questo approvato. Il quinto invece, che è quello anche usato dal campione mondiale di trading, e che abbiamo usato in community, e che un sacco di ragazze stanno utilizzando in community nell'ultimo anno, con ottimi risultati, è il post news macro sniping. Sniping perché c'è da stare fermi lì e aspettare un bel po' che arrivi quel dato. È un tipo di trading a bassa frequenza, ma dove tu praticamente cos'è che fai? Vai a vedere a che punto siamo del ciclo economico, e a che punto siamo dei cicli nelle politiche monetarie, e in base a in che fase siamo, capire quale dato il mercato sta guardando di più e che significato ha a livello macroeconomico. Quindi se e solo se esce un certo tipo di dato in una certa fase del ciclo economico, che conferma o non conferma le aspettative del mercato sul ciclo, allora attaccarsi a un treno in corsa, che molto probabilmente continuerà, quindi news following, o sul ritracciamento, quindi news surfing, o eventualmente anche qui news fading, ma con conferme tecniche su visione macro. E sta roba la vediamo in profondità all'interno del nuovo bootcamp macro che abbiamo rilasciato in collaborazione con Jan Smolen, che è tre volte campione del mondo con sta roba qua e con i cicli macro. Quindi un trading molto focalizzato sulle news, breve termine, e un tipo di trading più di lungo termine. Commenta con Global Macro e ti mando la presentazione del bootcamp. Se vuoi iscriverti, nuoviti, perché ci sono 500 posti e stanno già presi a unirsi.